Nel sud della Sardegna, nella parte centrale del vasto Golfo degli Angeli, alcune migliaia di anni fa è sorta la città di Cagliari. L'insularità permette anche di preservare aspetti culturali e gastronomici che resistono nel tempo. Testimonia il rapporto dei sardi e in particolare dei Cagliaritani con il loro mare. Astiari, ricci di Cagliari. Qui, ancora oggi, dopo molti secoli, è custodita e tramandata una tradizione gastronomica rimasta inalterata nel tempo. È un piatto di mare chiamato Saburrida Casteddaia. Nell'osteria del castello, Daniele è al lavoro. Nella tradizione, la burrida Assacasteddaia, alla Cagliaritana, viene servita in piccole porzioni come antipasto, come vediamo nelle immagini, ma alcuni amano abbondare e la servono come secondo piatto.